Tifosi bianco celesti ben ritrovati con Entella Time, il notiziario per non perdersi nulla di tutto ciò che accade nel mondo. Entella non riesce a tornare alla vittoria la formazione di mister Fabio Gallo che nella giornata di ieri ha impattato. 1-1 in casa con la fermana al vantaggio siglato da Romeo Giovannini, primo centro in maglia bianco celeste per il calciatore di proprietà del Modena. Arrivato al 64esimo nel recupero il pareggio beffa della formazione di fermo per il definitivo 1-1. Un punto che consente Entella di salire a quota 34 punti in classifica senza però tuttavia trovare una vittoria che manca da otto giornate. Del momento della formazione bianco celeste già rivolto ai prossimi appuntamenti di campionato ha parlato il capitano dell'Entella Luca Parodi. Andiamo a sentire. Ero convinto di poterla portare a casa, purtroppo non ci siamo riusciti, siamo amareggiati ma dobbiamo fare gruppo, dobbiamo fare unione come stiamo facendo durante queste settimane per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza. Questa squadra è una squadra che sta lavorando, sta soffrendo, sta cercando di sopperire ad alcune lacune che ha. È una squadra che comunque è giovane, ha cambiato tanto. Noi vecchi stiamo cercando di tutto il possibile, di cercare di indirizzare verso la strada che è quella della salvezza il prima possibile. Abbiamo bisogno che tutti rimiamo dalla stessa parte, che ci sia unità di intenti con tutto, con l'ambiente. Perché l'Entella ha sempre dimostrato di saper lottare, vogliamo lottare fino alla fine, vogliamo arrivare a questa benedetta salvezza il prima possibile. Abbiamo bisogno di tutti, dispiace per i tifosi, sappiamo che sono amareggiati. Noi lo siamo ancora di più di loro, credetemi che è veramente una squadra che soffre tutte le settimane. Non è facile comunque prendere una battosta dietro l'altra come sono state alcune delle ultime gare. Ma noi non ci abbattiamo, dobbiamo camminare sempre testa alta, dobbiamo cercare di raspare quello che c'è da fare. Perché veramente abbiamo bisogno di toglierci da questa posizione qui e cercare di vedere la classifica in maniera diversa. Ripeto, c'è poco da guardare indietro, c'è da guardare avanti con positività, col petto in fuori, cercare di arrivare a quell'obiettivo il prima possibile. E prima della partita di ieri, per la prima volta in uno stadio italiano, l'undici titolare di casa è stato letto in Braille. L'Entella, infatti, per celebrare la giornata nazionale del Braille, ha voluto dare a tutto il pubblico comunale una dimostrazione pratica di quanto questo metodo di scrittura ancora oggi sia prezioso per le persone con disabilità visiva. Speaker d'eccezione è stata Elisa, una giovane ragazza di 26 anni genovese che si è messa a completa disposizione, ha trascritto la formazione e poi si è posizionata a bordo campo e la letta a tutti i tifosi presenti. Apriamo adesso la pagina dedicata al settore giovanile, tante le sfide in questo fine settimana. Al pareggio della primavera 0-0 in casa della Ternana dopo la bella vittoria sul Napoli. Continuità di risultati per i ragazzi di Melucci che adesso saranno attesi dal derby. Sabato prossimo alle 15 al Daneri con lo Spezia. Piro tecnico 4-4 dei ragazzi di Annoni, gli under 17 che hanno pareggiato con la ProSesto in trasferta, appunto 4-4. Così come 1-1 i ragazzi di Cisco guida, gli under 15 sconfitte invece con il Renate per gli under 16 di Mr. Andrea Scotto. Entella Time per tutti gli approfondimenti torna domani puntuale alle ore 19. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori.